Nel video precedente abbiamo visto come linkare Facebook a Instagram. Adesso andiamo invece a vedere come linkare Instagram a Facebook. Adesso facciamo la stessa cosa su Instagram. Quindi entreremo nel nostro Instagram, andremo in alto dove ci sono le tre linee, andremo in impostazioni, account e cliccheremo su condivisione su altre app. Eccolo qua, il mio Facebook praticamente mi dice la tua storia di Instagram si collegherà direttamente col Facebook e i tuoi post di Instagram saranno collegati col tuo Facebook. Li dobbiamo andare a attivare e il gioco è fatto. Spero di avervi dato il supporto necessario per poter linkare i due profili Facebook e Instagram insieme anche per le storie. Mi fa sempre piacere se mettete un like e scrivetemi pure anche nei commenti o in direct. Io cercherò di darvi tutto il supporto necessario, tutto l'aiuto necessario per potervi fare crescere. Ok? Alla prossima! Ciao ragazzi! Ciao! 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 Grazie a tutti